Buonasera a tutti, buonasera anche ai ritardatari e benvenuti a Giovedi Scienza. Trovare un inizio della storia che racconteremo, questo inizio potremmo collocarlo forse negli anni 50 perché è del 1951-52 la nascita dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, è quello un periodo, quel decennio particolarmente vivace per l'Italia della scienza che vede nascere anche l'Istituto Superiore di Sanità, vede nascere anche Fernando Ferroni, però dovevo svelare il suo nome dopo ma ormai si è svelato da solo. Vede nascere anche a livello europeo il CERN e non è un caso perché dopo la guerra si capisce che la scienza, la fisica in particolare, ha bisogno di superare tutte le frontiere, le barriere quindi la ricerca può basarsi solo sulla collaborazione internazionale. Poi l'Italia forse perderà qualche colpo nei decenni successivi ma l'INFN e Fernando Ferroni invece no, resteranno abbastanza solidi. Per arrivare ai giorni nostri, ecco questo sul versante italiano. Sull'altro versante, l'inizio magari ce lo potrà raccontare il nostro secondo ospite, ma diciamo che è senz'altro vero che negli ultimi decenni, venti, forse trent'anni, la Cina ha conosciuto uno sviluppo economico considerevole che è andato di pari passo e poi il nostro ospite ci dirà se è stato un caso o una scelta politica o entrambe le cose forse, è andato di pari passo con lo sviluppo della ricerca che ha fatto passi da gigante. L'ultimo episodio che mi sembra di poter citare in questo momento è la discesa lo scorso 3 gennaio dell'Ender con annesso rover sulla superficie nascosta della Luna, però non parleremo di Luna in questo caso, credo, o forse anche sì, parleremo comunque di collaborazioni internazionali che oggi più ancora che allora sono necessarie e sono necessari a scala globale, parleremo di acceleratori di particelle, parleremo di rilevatori di particelle nello spazio e a terra e finalmente arrivo a presentarvi i nostri ospiti che sono appunto Fernando Ferroni e Yifang Wang. Fernando Ferroni oltre a essere nato più o meno a tempo all'INFN ne è diventato presidente nel 2011, quindi guida l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il pubblico di Giovediscienza lo conosce perché ha già avuto modo di incontrarlo, l'ultima volta lo scorso anno in una serata condotta da Neri Marco Re, stasera va così, se ne farà una ragione, invece Yifang Wang è direttore dell'Istituto per la Fisica delle Alte Energie dell'Accademia delle Scienze cinese, è un fisico a sua volta, ha conseguito un dottorato, il dottorato di fisica a Firenze e quindi lo sentirete parlare un italiano fluente, quando gli farete le domande magari fatele con un po' più di calma, però potrà tranquillamente affrontare qualunque tipo di questione. Ma allora veniamo al sodo e io chiederei subito a Fernando Ferroni quando vi siete conosciuti, o meglio, quando nasce questa collaborazione italiacina? Queste sono due cose diverse, lui lo conosco perché ha fatto la sua tesi di dottorato al CERN in un esperimento in cui eravamo insieme negli anni 90 e quindi... 86, c'hai ragione, 86, ci siamo conosciuti nell'86. Dopo devo dire che a posteriori gli ho anche venduto un'automobile che era una Golf bianca e mi ha detto che lui se l'è poi rivenduta più di quanto aveva dato a me, ma questo non è importante. Diamogli la possibilità anche di replicare avvicinando e accendendo il microfono. Questo dimostra che, come è noto, il cinese ci sa fare. La collaborazione scientifica, che non è quindi quella tra me e lui, che è quella tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto di Alte Energie di Pechino, nasce negli anni 90 quando i cinesi decidono di fare un rivelatore di raggi cosmici in Tibet, che è un posto particolarmente adatto per questo, perché puoi stare a 5.500 metri, non ci sono disturbi, diciamo, antropici né elettromagnetici intorno e quindi è un posto ideale per fare un esperimento. L'unico problema è che bisognava fare un esperimento con un rivelatore che costasse ragionevolmente poco e noi avevamo lì per caso una tecnologia adatta, che erano questi contatori resistivi sviluppati in Italia appunto in quei tempi, per cui un gruppo italiano si è preso l'incarico di andare a collaborare in Cina con loro, io non ci sono mai stato, però mi hanno raccontato, diciamo, cose che voi umani non potete immaginare, nel senso che il posto era bellissimo, il rivelatore ha funzionato benissimo, però si lamentavano tutti di come si mangiava, notate, dico, in Cina si mangia meravigliosamente bene, pare che in Tibet non fosse esattamente così, però diciamo da lì nasce, ma questo è un punto importante, non il cibo. Il cibo è importantissimo, vuol dire che, sapete per quanto è importante per gli italiani, vuol dire che nonostante che mangiassero male, però diciamo il fuoco della fisica e l'importanza delle relazioni con i colleghi cinesi era tale da superare anche questo piccolo problema. E da lì nasce una grande avventura di cui magari possiamo parlare, ma che si sviluppa fino a oggi e che magari lui può dire meglio di me, visto che molte delle cose che facciamo, le facciamo in Cina, con loro. Ma non so se vogliamo partire da lì, oppure, visto che abbiamo preparato delle diapositive, se partiamo dagli acceleratori di particelle. Se volete commentare voi, è la cosa migliore. a lui, non mi ha scritto in cinese. Questo è un acceatore che stiamo lavorando adesso insieme con anche un FN, è un acceatore con 100 km di circonferenza, è un elettrone-positrone, come si dice collider? Collisore. Collisore. Fa scontrare. Quindi questo è il disegno, abbiamo fatto questo disegno e con questa spiegazione di come funziona questa macchina. Ecco, questo per adesso è un progetto ed è un progetto che nasce proprio da una proposta di Yifang Wang. Se ne parla per che tempi? Abbiamo cominciato questa idea in anno 2012, quando il Higgs boson è stato scoperto, abbiamo una discussione per il futuro, cosa possiamo fare per la fisica e l'energia, quindi è venuta questa idea che al futuro ci vuole un acceatore di elettrone-positore per studiare il bosone Higgs in gran dettaglio, circa un fattore 10 meglio in pressione che quello che può fare l'HC al CERN. Quindi questa è l'idea che abbiamo sviluppato dal 2012 fino adesso. quindi abbiamo già un disegno concentrale, concentrale, scusa eh, scusate. A Firenze non te lo perdonerebbero, ma qui forse sì. Ma è passato un po' di tempo la dottorata. Quindi questa è una macchina che abbiamo lavorato per gli ultimi sei anni e adesso anche a CERN c'è quasi la stessa idea di fare una simile macchina con 100 km di circonferenza. questo annuncio è stato in gennaio, 15 gennaio quest'anno. Quindi questo vuol dire che i fisici mondiali abbiamo quasi la stessa idea per il futuro. Quindi una macchina di elettrone-positore è il futuro per la fisica particolare. Si diceva come tempi che per adesso appunto è solo un progetto e se tutto va bene potrebbero partire i lavori fra più o meno 4-5 anni? Sì, se tutto va bene possiamo cominciare la costruzione di questa macchina in 5 anni da adesso. e poi ci vuole quasi 8-10 anni per la compiere. Quindi in anni 2030 o qualcosa ce l'abbiamo questa macchina in funzione. E invece domani? No, ma è così. Cioè sulla scala dei tempi degli esperimenti di fisica delle alte energie è 2030 domani. Ma invece a Ginevra? Eh, a Ginevra si sta sviluppando un progetto analogo. Quanto tempo ci vuole non lo so. Non è per il 2030. Nel senso che Ginevra ha un acceleratore che è il Large Hadron Collider che dovrebbe funzionare fino al 2036 circa. e quindi diciamo potrebbe essere pensabile che un acceleratore di questo tipo potrebbe venire negli anni successivi. Diciamo 2040, insomma, mi sembra un'ipotesi ragionevole. Sì, hanno detto 2040. 2040. Io penso che due acceleratori così non si faranno. se ne farà uno solo. Io sono, ormai vivo nel mondo globale, per me vinca il migliore. Cioè chi lo fa va bene, eh. Io non ho pregiudizi, cioè diciamo i fisici non hanno pregiudizi. Ma non si faranno secondo lei perché non sono sostenibili? No, ma non è, diciamo non è neanche sensato farne due. Mentre su uno stesso collider, che è un grandissimo investimento, potrebbero essere, diciamo, sulla scala di quello che penso io, potrebbero essere 10-12 miliardi di euro. Non lo so in Yuan quanto sarebbe, ma comunque questa è la scala. Fare due esperimenti sulla stessa macchina poi ci aggiunge il 10% del costo. Fare due collider raddoppia il costo. Quindi facciamo due esperimenti sulla stessa macchina invece di fare due macchine diverse. Cioè questo veramente, cioè, un minimo di buonsenso i fisici ce l'hanno. Non del tutto, altrimenti non farebbero questo mestiere, però insomma, diciamo, un po' lo devono conservare. Ma allora parliamo invece del presente, visto che siamo partiti dal futuro, torniamo indietro. Sempre a proposito di acceleratori e di collaborazione. C'è una bella macchina a Pechino, si chiama BES, è in funzione da tanto tempo. Da 2009. È in funzione dal 2009, penso che funzionerà ancora per 10 anni. Ci sono dei gruppi italiani che lavorano con loro, forse lui può dire meglio di me quello che fanno, perché io in fondo ci metto i soldi, ma loro lavorano. Qui abbiamo un gruppo di italiani che lavorano su questa macchina, hanno fatto molto lavoro sui dati, hanno avuto abbastanza risultati da questo esperimento. Di più abbiamo anche collaborazione sul new training, abbiamo un esperimento che si chiama Juno, vicino a Hong Kong. Questo esperimento... I fang è vicino in un senso cinese. Io ci ho messo quattro ore e mezza per arrivare, ma... È solo 100 chilometri, quindi non è facile, però è 100 chilometri. Adesso c'è il ponte, forse. Sì, adesso c'è il ponte, quindi è molto più facile. Quindi questo esperimento c'è un grosso contributo da INFN, sia i soldi sia che la gente, quindi è un grande gruppo su questo esperimento. E in questo caso dai laboratori del Gran Sasso? No, questo... Beh, diciamo... L'esperienza per Juno viene dall'esperimento borezzino che è ai laboratori del Gran Sasso, ma la compagine è molto più variopinta, diciamo, viene da diversi posti in Italia. Una premessa per loro, forse la lo sanno, l'INFN è in 21 università italiane e 4 laboratori nazionali, quindi quando diciamo che qualcuno fa un esperimento può venire anche da 4, 5, 8 posti diversi. Allora, qui leggiamo il titolo. 27 chilometri per scoprire e 270 metri per curare. Quindi la fisica delle particelle serve anche per la medicina. Ne abbiamo parlato anche a Giovediscienza lo scorso anno. Sì, questo è... Vedete, sopra c'è la macchina di punta della fisica delle alte energie, è un sincrotrone, infatti, che ha 27 chilometri di lunghezza perché accelera le particelle che ha un'energia di 8, 7, 8 mila miliardi di elettronvolt, l'elettronvolt è che una pila da un volt e mezzo fa un elettronvolt e mezzo, e quindi basta metterci qualche miliardo di pile, una pressa dall'altra, e si fanno l'energia dell'LHC, però, diciamo, il concetto è identico. La macchina sotto è un sincrotrone di 270 metri che accelera i protoni di ioni carbonio a 400 milioni di elettronvolt, quindi di meno, ma giustamente è più piccola, quindi fa di meno, però è l'energia giusta per mandare un fascio su un paziente e distruggere un tumore solido. Diciamo, non tutti i tumori possono essere curati in questo modo, ci sono dei tumori, specialmente quelli alla base del cranio e dintorni, per i quali questa terapia è migliore di qualunque altra soluzione. È migliore di qualunque altra soluzione perché questa terapia, questi ioni carbonio vanno esattamente a distruggere il tumore lì dove è, senza quasi, riducendo il danno lungo il percorso. L'alternativa, che è quella che viene comunemente chiamata radioterapia con i fotoni, che si fa in tutti gli ospedali, e che va benissimo per molti tumori, diciamo, che stanno locati in posizioni meno critiche, è che i fotoni innaffiano, come si dice, di radiazione l'intero cervello, se uno gli spara in testa, e devo dire che potendo scegliere, preferirei, diciamo, avere il danno concentrato lì dove c'è il tumore e non avere il cervello innaffiato di radiazione. Oddio, lo dico sempre, se poi uno deve morire, per carità, va bene anche quello. Però potendo scegliere, credo che questa sia un'opzione molto interessante, offerta, diciamo, ai pazienti del nostro paese, e questa è la, o è una delle due macchine che stanno in Europa e che fanno questo lavoro. Non so se in Cina state sviluppando macchine analoghe. Sì, c'eravamo simili macchine anche in Cina, Pequino e Shanghai. Però in questo caso non c'è una collaborazione? Tecnologia, sì, diciamo, c'eravamo la gente che ci parla, no, tutte le... Qui la collaborazione è più importante. Siccome la tecnologia è derivata da acceleratori che sappiamo costruire ormai da decenni, è più importante forse la cooperazione a livello delle equip mediche che devono trovare i migliori parametri del trattamento. Quindi è fuori dal... Noi non sappiamo come si cura il paziente, lo sanno i medici, distinguiamo molto chiaramente il confine. Diciamo che in questo caso, come in quello del CERN, come in quello dell'INFN, insomma, lo spirito comunque è quello sempre dell'apertura, della condivisione dei dati. Non c'è una guerra di proprietà, diciamo, sulle scoperte. Quindi comunque la tecnologia che si sviluppa da una parte... Guarda, qui si tratta di curare dei malati, quindi diciamo, quello è preeminente rispetto a tutto. Ripeto, su queste macchine non c'è una tecnologia proprietaria particolarmente importante, diciamo. Noi sappiamo costruire un acceleratore, sappiamo indirizzare un fascio del... Basta che ci dicono dove deve andare, lì lo sappiamo mandare. Da lì comincia un altro mestiere, che è quello del medico, che deve sapere cosa sta facendo. Anche in questo caso ci dovrebbe essere un video, quindi se riusciamo a farlo vedere... Ah, il video è su LHC però. Va bene. Però ce l'abbiamo, quindi a questo punto... LHC ne abbiamo parlato, è la macchina su cui abbiamo investito più risorse negli ultimi 20 anni, forse 30. è un gioiello di tecnologia, ovviamente, ci collaborano... Questa è una macchina globale, come si dice, ci collaborano tutti, ci collaborano i fisici degli stati che hanno costruito il CERN, ci collaborano i fisici di paesi che si sono associati al CERN, ma ci può collaborare chiunque, purché abbia un'idea di cosa fare e porta un contributo a uno degli esperimenti e viene sicuramente accettato. Questa macchina non ha confini e non ha barriere. Questa è una caratteristica, credo, della scienza in particolare, non avviene, della fisica delle particelle in particolare, non c'è nessuna barriera all'ingresso e su questa macchina penso che ci siano degli iraniani e degli israeliani, ci sono dei palestinesi e chiunque altro. Credo che la mappa di quelli che lavorano al CERN sia grossomodo coincida con quella delle Nazioni Unite, purché in quei paesi ci sia un'università in cui ci sia interesse per fare queste cose. Cioè la fisica va molto oltre tutte le barriere che siano culturali, che siano religiose, che siano politiche, che siano di qualsiasi tipo, dove noi non ci siamo mai fatti un problema, non abbiamo mai chiesto. Possiamo chiedere se sai l'equazione di Dirac, ma non quale religione professi. ed è quindi un centro ispiratore di come si può andare ad accordo al di là del disaccordo che c'è a un altro livello. Un CERN importante anche per questo. La scienza va oltre la politica senz'altro, però ha bisogno anche della politica, o meglio di scelte esatto, perché soprattutto per ricerca di questo genere servono tanti soldi, servono tante persone anche che ci lavorino e serve non solo tanti scienziati, serve anche una serie di tecnologie e quindi serve anche un'industria, se vogliamo, che sia all'altezza della situazione e quindi serve un investimento complessivo. È così? Sì. Sì. Mi aspettavo un discorso più lungo. No, no. Era un'imbeccata, era per dare il lato. No, no, possiamo fare un discorso lunghissimo. Adesso magari sono curioso di sapere come si sviluppa in Cina questo rapporto tra il committente e l'industria. Cina non è diverso dagli altri paesi, quindi facciamo questa ricerca di scienza e per fare questi strumenti ci vuole supporto da industriale, quindi abbiamo un rapporto abbastanza amicibile con i nostri industriali. Quindi questo è anche molto utile per avere supporto da politici, quindi si vede che questa ricerca non solo per avere i risultati di scienza, ma anche c'è un supporto, un aiuto all'industria. Quindi questo dobbiamo farlo come tutti gli altri paesi. Sì, questo è molto importante. Quando abbiamo costruito questa macchina, l'industria italiana ha preso commesse per costruire questa macchina pari o superiori addirittura all'investimento che l'Italia faceva nel CERN come sua quota dovuta. E questo è successo perché l'INFN attraverso tutto un processo di prototipizzazione poi ha messo l'industria e capace di produrre tutti i pezzi che servivano alla macchina. E ovviamente quando tu fai questo, poi il governo magari se ne accorge. Non perché se ci vado io a spiegarglielo, magari non funziona. Però se l'industria reclama in qualche modo la continuazione di queste linee di ricerca, perché ha sviluppato competenza e ha sviluppato capacità e quindi si è conquistata poi dei mercati che vanno al di là del CERN. Perché l'industria che ha fatto i magneti per l'HC poi ha preso la commessa dei magneti per ITER che è a Catarascia in Francia per il reattore di fusione nucleare. Al quale anche la Cina partecipa. Questo per dire che comunque tra l'altro l'impresa di queste imprese sono diventate globali e anche la competizione è diventata globale. Quindi bisogna essere sempre un passo. Ma la competizione fa bene perché ti fa fare le cose meglio. Te le fa fare meglio e più velocemente. Quindi la competizione è sempre benvenuta in questo campo. Chiacchierando con Ifang Wang prima della conferenza appunto ci confrontavamo sul fatto che la Cina effettivamente negli ultimi più o meno 30 anni ha visto crescere molto come ho detto anche all'inizio la sua economia e anche gli investimenti in ricerca. E io chiedevo appunto se è un merito di qualche decisione illuminata e lui invece rispondeva che è un caso più o meno. E non potrebbe succedere anche da noi questo caso, no? Scusa. Perché l'economia aumenta con una velocità di circa 10% all'anno in Cina, negli ultimi 30 anni. Quindi il supporto del governo su scienza è anche circa lo stesso livello. Quindi questo vuol dire che i risultati sono un caso a caso. quindi non è una cosa fatta speciale per la scienza. Quindi uguale come tutti gli altri. Beh, a di loro. Se meno di quello probabilmente abbiamo avuto pochi supporti. Se è molto di più di quello vuol dire che abbiamo veramente avuto supporto speciale. Ma secondo me è uguale come... Quindi diciamo in Cina si è sviluppato come l'economia e giustamente noi siamo in un paese dove l'economia si sviluppa poco e quindi noi... E noi ci danno ancora meno però. Eh, perché comunque è una componente... Questo devo dire... Eh? Noi come numeri come siamo messi? L'economia come cresce in Italia? Beh, questo lo leggete sui giornali come cresce in Italia l'economia. Ma come investimento? Allora, quando l'economia non cresce ci sono due soluzioni. Una è quella, diciamo, tedesca. E' detto, vabbè, l'economia cresce poco ma per farla crescere di più investiamo di più nella conoscenza, no? Nella ricerca. Soluzione tedesca. La Germania non è che cresca in maniera pazzesca. La Germania è cresciuta come in media l'Europa se l'1,5% l'anno. Quindi, insomma... Però alla scienza hanno dato il 3-4% l'anno di incremento. L'altra soluzione è quella italiana. L'economia cresce poco, tagliamo i soldi alla scienza e mettiamoli da un'altra parte. Non mi esprimo sul risultato, non mi esprimo sul risultato finale di questa brillante operazione. Ai posteri. Ai posteri l'ardo a sentenza. Qui invece che cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo sulla sinistra quell'oggetto rosso, diciamo, è il mitico calorimetro elettromagnetico di un esperimento che si chiamava L3. Quello dove stavamo insieme a lavorare, va bene? Negli anni, appunto, fine degli anni Ottani. Insomma, L3 è cominciato in realtà a prendere i dati nell'89 però si è cominciato a fare nell'80 e lì ho conosciuto questo giovane brillante diciamo che veniva dall'Università di Firenze misteriosamente. C'è un cinese che viene dall'Università di Firenze come sarà mai questo giovane. Va bene. Allora, quel calorimetro è fatto di 11.000 cristalli del tipo di quelli che vedete nella foto in mezzo o in basso. Va bene? Misurano sciami elettromagnetici. In particolare, se vedete quell'evento diciamo con due oggetti che vanno da una parte quella è uno dei risultati più importanti dell'esperimento è il decadimento di un bosone intermedio Z in due elettroni in un elettrone e in un positrone e vedete che quelle due belle cose più un fotone che usciva perché è un evento radiativo diciamo dimostrano che quell'oggetto funzionava e faceva quella cosa lì. Adesso se voi prendete quell'oggetto è fatto di 11.000 cristalli in forma di una bella botte sembra proprio una bella botte di quelle del vino che in questa regione mi sa che ce ne stanno tante per me c'è pure più o meno c'è anche ma c'è anche le dimensioni secondo me di una barrique quindi diciamo è proprio un oggetto che vi dovrebbe risuonare diciamo nel profondo dell'animo e allora se voi è fatto di tanti anelli di questi cristalli allora prendete un anello di questi cristalli per me è uno solo quindi diventa un anello che si vede nella foto a destra prendete questa cosa e iniettate nel paziente un opportuno oggetto che si chiama FGD ma insomma è una molecola che contiene un che contiene un un fluoro radiattivo che viene attivato nell'ospedale in un ciclotrone un altro acceleratore peraltro e quello lì si andrà ad attaccare al vostro al vostro no diciamo al tumore di qualcun altro al tumore di qualcun altro diciamocelo che si va ad attaccare proprio lì dopodiché siccome è radioattivo ed emette dei positroni i positroni trovano subito l'elettrone più vicino e sparano due fotoni uno da una parte e uno all'altra quindi in piccolo si riproduce esattamente quello che si produceva dentro L3 quando uno Z0 decadeva in uno e più e meno il risultato vabbè il paziente la cosa è meno diciamo per il conforto del paziente non si fa vedere tutta quella roba si mette il paziente in quella bella macchina che vedete in basso a sinistra però quello che c'è dentro è un anello di BGO e non è che c'è altro e e poi l'elettronica che lo legge e vedete bene diciamo sulla nella scansione di quel cervello va bene e vedete per esempio quello non è un tumore tra l'altro quello è il Parkinson è un cervello affetto da Parkinson e vedete chiaramente come un cervello normale che è quello a sinistra quello dove ci sono i due lobi rossi ed è diverso come il cervello del Parkinson è diverso come si è modificato nella cosa quindi è uno strumento di diagnostica molto importante molto importante per i medici che riescono in questo modo a capire le evoluzioni della malattia oppure nel caso del tumore dicono vabbè abbiamo capito è lì è un tumore e ora vediamo cosa fare poi se lo portiamo al CNAO per essere sparato o lo operiamo con il bisturi o gli diamo la chemoterapia ripeto è una decisione che non mi compete però questo è un modo di fornire degli strumenti alla medicina che sono completamente derivati ma veramente questo è proprio preso e portato lì diciamo dalla fisica delle alte energie anche qui se non ho segnato male dovrebbe esserci eccolo qua scusa prego prego puoi tornare indietro puoi tornare puoi fermare torna indietro si sa eccolo cioè questo cristallo è stato richiesto dall'esperimento L3 per il motivo che questo cristallo è molto buono per la ricerca per la scienza ma questo cristallo non esiste prima di questo L3 esperimento è stato sviluppo in Cina e alla fine questo cristallo è stato fatto tutto 10.000 cristalli è stato fatto in Cina e adesso tutto il mondo i PET stanno usando questo cristallo quindi si vede l'utilizzazione della scienza e anche la collaborazione internazionale ma questo è importante chi lo produce che è una company che sta a Shanghai che peraltro è anche più dell'accademia cinese SICAS ha sviluppato questo cristallo che prima non si sapeva fare ma diciamo tra l'altro lo ha L3 l'esperimento questi 11.000 cristalli li ha pagati con un prezzo che non era di mercato non ha neanche ripagato l'investimento che gli è stato fatto ma da quel giorno quella ditta ha venduto tonnellate di questa cosa agli ospedali per la medicina e sicuramente ci ha guadagnato molto quindi questo è un rapporto virtuoso cioè la scienza chiede tecnologia l'industria capisce che c'è un potenziale in quella tecnologia ti aiuta a farlo e poi ci guadagna questo è un circolo assolutamente virtuoso il filmato di prima che però riguarda sempre ah sì insomma il paziente eh bene sempre sempre al microfono sì insomma se vuoi essere curato riesce ad essere qualcosa che fa un po' paura che te devo dire non saprei ma in fondo è meglio del bisturi guarda respira anche quindi è vivo ha dei tratti un po' strani ha dei tratti particolari qui sarà il Kinao questo è lo scan che il fascio di ioni carbonio fa sul bersaglio che è il tumore che avete visto prima in rosso cioè viene proprio in qualche modo siccome il fascio puoi modulare l'energia e la posizione lo puoi mandare dove vuoi lui piano piano fetta per fetta se lo mangia diciamo cioè sia trasversalmente sia in profondità sì se lo mangia se lo mangia fetta per fetta con un programma che ovviamente non finisce nei primi 5 minuti ma insomma servono credo che lo standard siano 16 sedute che però vengono fatte diciamo tipicamente in una settimana o poco più 16 sedute da quanto tempo l'una? no la seduta dura dura pochissimo cioè l'irraggiamento nella singola seduta credo che duri 2-3 minuti il problema è che posizionare il paziente in modo che il fascio vada lì proprio dove vuoi che va prende un quarto d'ora 20 minuti ma dunque abbiamo parlato di acceleratore di fisica delle particelle abbiamo parlato di medicina adesso parliamo di arte parliamo di arte c'è scritto qui c'è scritto vero dunque noi abbiamo a Firenze ma quando c'hai tu non c'era abbiamo un acceleratore che la sede di Firenze dell'università quando lui faceva l'università a Firenze stava in un posto meraviglioso ad Arcetri vicino alla casa di Galileo dall'istituto di fisica si vedeva tutta Firenze con una meraviglia poi hanno deciso che era un posto scomodo e quindi l'università si è trasferita a Sesto Fiorentino che è un posto infame però che potete fare no tra l'altro per punizione perché l'istituto di fisica l'hanno messo a Sesto Fiorentino è un bellissimo edificio e nel basement come si dice sotto scala di Sesto Fiorentino c'è questo nostro acceleratore di particelle che è fatto apposta per studiare diciamo quadri sculture ed altre cose però siccome c'è una legge del contrappasso poi a Firenze il contrappasso deve stare proprio lì hanno deciso di andare a Sesto Fiorentino perché stavano più comodi e adesso gli mettono l'aeroporto che gli passa sopra o dentro adesso ha scelta devono scegliere tra le due opzioni quindi temo che se ne dovranno spostarsi un po' più in là almeno ma il punto non è questo il punto è che se voi avete una macchina che può studiare benissimo i quadri o può studiare dei libri o può studiare delle statue perché lo fa? lo fa perché per esempio voi volete di un quadro volete sapere due cose supponete che è rovinato in un punto e volete non credo che vada più tanto di moda comunque volete fare un restauro mirato su quella cosa dovete sapere il pigmento che cosa era esattamente cioè quale composto chimico era se no non verrà mai e con queste macchine diciamo bombardando con protoni o ioni e guardando i raggi X che escono all'indietro si vede esattamente qual è l'elemento chimico che c'è questo è un punto l'altra cosa è che potreste avere la sana curiosità di sapere se il pittore era ricco o povero o ci aveva ripensato cosa c'è dietro quel bellissimo dipinto che vedete c'è dietro c'è una prova c'era un altro quadro che gli faceva schifo e quindi ci ha pittato sopra oppure diciamo era povero e ha dovuto farlo beh questa macchina lo sanno fare sui libri per esempio è facile datare un libro perché chi lo scriveva usava un inchiostro oggi e un altro inchiostro domani e quindi con questo puoi capire abbiamo datato dei manoscritti di Galileo che non erano datati e quindi su quello tu capisci sostanzialmente queste cose e su una statua puoi fare cosa analoga il problema è che portare un Leonardo o portare un Piero della Francesca o portare il libro di Galileo dagli Uffizi a Sesto Fiorentino è un'operazione un po' delicata è stato fatto anche se c'è poi l'aeroporto vicino quindi e vabbè ho capito ma no il problema è il traffico di Firenze ma tu pensa tu pensa ti prendi un Leonardo il direttore degli Uffizi prende un Leonardo se lo mette in macchina va bene e lo porta a Sesto Fiorentino supponi che viene travolto da un tir non ho detto che vengono i ladri i ladri si remota poi il ladro come fa a sapere ma vieni travolto da un tir hai perso un Leonardo cioè ti pare ragionevole è un direttore anche però no hai perso un direttore quello no il direttore scusate è disposable in inglese va bene il Leonardo no va bene perché il direttore lo si può rifare è morto un direttore se ne fa un altro è morto un direttore se ne fa un altro ma il Leonardo no il Leonardo è morto e basta non è ancora venuto un altro va bene no ma il punto è che abbiamo pensato che forse era meglio fare una macchina e metterla direttamente all'opificio delle pietre dure dove avviene il vero restauro o l'analisi dei quadri l'unico altro esempio in Europa che c'è è una macchina che sta a Louvre a Parigi ultimamente si è anche allagata sapete che vi ricordate che la Senna a un certo punto è cresciuta un po' e il Louvre una macchina si è allagata quindi non so neanche se funziona più quindi abbiamo deciso di costruire questa macchinetta insieme al CERN peraltro per l'opificio delle pietre dure quindi è quella macchina che ho fatto vedere prima nella foto è piccolina questo è il modo in cui si rivela tutte le cose che escono dal dipinto una volta che viene bombardato è una tecnica molto bella e credo che renderà la macchina in costruzione io ho visto quei pezzi che stavano lì io penso che renderà dall'anno prossimo l'opificio delle pietre dure il più attrezzato in Europa per occuparsi di queste cose ovviamente noi sappiamo che i musei sono poveri specialmente quelli italiani perché per il motivo non riescono a vendere le cose io ho capito in tutti i musei del mondo che vado siccome devo riportare un regaletto a casa perché se no insomma mia moglie non sarebbe felicissima vado compro una cosa al museo e una penna che fuori costerebbe un euro lì costa dieci euro però l'ha fatta il museo in Italia pare che questa cosa non si riesca a fare in un momento in Italia pagano anche il biglietto quindi vabbè per carità comunque ci ho detto sappiamo che i musei sono poveri quindi questa macchina sarà un dono all'opificio delle pietre dure pensiamo che sia questo è il telo di San Francesco credo e vabbè ultimamente abbiamo anche siamo parte di una polemica interessantissima della storia dell'arte che è il papiro di Artemidoro ma se volete poi un giorno vi racconto la penosa storia del papiro di Artemidoro no perché noi sosteniamo con degli elementi di fatto che è una cosa e i storici dell'arte sostengono che noi ci sbagliamo io penso che a chiacchiere non andiamo da nessuna parte va bene qui ci stanno i dati vedete un po' che volete fare insomma però vabbè non è grave siamo tolleranti come dire e non sottoponiamo al referendum il risultato neutrini e balene ci sarebbero più balene in Cina forse di quante non ce ne sono nel Mediterraneo non so ci sono le balene nel mare della Cina no troppo caldo no e non lo so e non lo so vabbè dunque abbiamo abbiamo un interessante esperimento va bene l'interessante esperimento è quello di cui vedete solo una palla e dei fili che vanno in fondo al mare questo esperimento è ancorato a 3500 metri di profondità nel Mediterraneo di fronte a Capopassero in Sicilia in una delle fosse che il Mediterraneo ha e voi ancorate al fondo del mare una stringa dove lungo la stringa ci sono quegli oggetti che vedete lì che sono occhi elettronici sostanzialmente quelli vedono ogni fenomeno luminoso che c'è nel mare ora dovete immaginare che a 3500 metri di profondità non è che c'è molta luce quindi nel buio totale si possono vedere solo due cose o un pesce di quelli ce la canto non so come si chiama una bestia che viene lì con la sua lanternina e dice buongiorno anche questa notte interessante oppure si possono vedere i sciami indotti da neutrini di altissima energia che vengono dal cielo lontano perché si vedono perché i neutrini interagiscono con l'acqua qualche volta questo apparato riesce a monitorare a vedere un chilometro cubo d'acqua un chilometro cubo quindi qualche neutrino ogni tanto insomma i neutrini non interagiscono quasi mai ogni tanto qualcuno lo fa e le particelle cariche che sono il prodotto di questa interazione di neutrino siccome vanno più veloci della luce attenzione attenzione sì vanno più veloci della luce nell'acqua la luce lì la luce nell'acqua va più piano che fuori quindi una particella può andare più veloce della luce nell'acqua allora in quel modo quando un aeroplano va più veloce della velocità del suono nell'aria cosa fa boom no adesso è vietato non si sente quasi più forse non so secondo me il pubblico qua se lo ricorda se lo ricorda ancora benissimo perché c'è una base di aerei militare vicino a Torino non credo no voglio dire io me lo ricordo per sentire questa cosa devi stare vicino a una base militare da dove partono i caccia che poi si provia quindi non lo so insomma io a Roma non me eh a Novara forse però fanno il bang più vicino lo fanno abbastanza presto ieri c'hanno un bel 0-100 sul 0-100 sono forti accelerano in fretta eh accelerano in fretta accelerano in fretta vabbè comunque quindi praticamente in acqua si produce lo stesso effetto solo che invece di fare bang fanno luce e va bene e quindi noi vediamo la luce perfetto fino a qui va tutto bene questa è fisica delle particelle dice vabbè cavoli vostri come dire se ci capite bene però c'è un problema interessante queste stringhe di fototubi sono ancorate in basso ma non le puoi ancorare in alto perché a che cosa le ancori al niente quindi queste flottano tranquillamente in preda alle correnti che stanno a 3.000 metri io non so neanche da dove vengono non so quanto siano note non importa se sono note come dice quello non studio le correnti del mare studio quelle elettriche tutt'al più allora dove sta quando tu vedi la luce ho visto la luce in questa palla ma la palla dove stava rispetto a tutte le altre allora devi sapere dove stanno le palle e per sapere dove stanno le palle c'è un modo semplice fino alla palla metti un emettitore di suono va bene e un altoparlante e un microfono allora il suono va verso l'alto e viene riflesso dalla superficie del mare va verso il basso e viene riflesso dal fondo insomma si fa un triangolo e dice stava qua fino a qui va tutto bene cioè a un certo punto diciamo in questo esperimento ho cominciato a sentire dei rumori strani ma che sembravano diciamo appartenere a esseri a esseri senzienti cioè sono dei click adesso non sono riuscito a trasportare l'audio su questa cosa però tu senti click 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 clic ma che è sta roba e poi ti accorgi diciamo seguendo questo suono ti accorgi che vedi per esempio quel movimento vedi quelle cose quelle due strisce che sono lì e quelli sono due balene sono due balene che insieme giocano probabilmente vanno a cercare da mangiare non lo so quello che fanno quello che fanno ancora non c'è diciamo non siamo riusciti a decodificare esattamente quello che si dicono ma quelli sono balene che si parlano tra di loro e questo è il loro linguaggio abbiamo fatto dei progressi insieme ai biologi diciamo marini e adesso sappiamo quando quando uno è maschio quando uno è femmine quando uno è cucciolo il problema il problema successivo sarebbe sapere cosa si dicono però però per sapere cosa si dicono gli dovresti fare dei test come si fa con le scimmiette ti do la banana ti do lo zucchero e tu reagisci solo che andare a cercare la balena a 2.000 metri di profondità per dargli qualcosa insomma questo è un problema serio questo problema non l'abbiamo ancora risolto però se i biologi marini ci danno una buona idea possiamo farlo una cosa che abbiamo capito invece se vedete quella balena che passa dal blu al rosso andando dall'alto verso in basso quella si sta facendo praticamente in un tempo trascurabile 500 metri di profondità cioè quella sta andando giù verticalmente a una velocità folle va bene questo magari aiuta anche a comprendere un po' diciamo qual è la capacità delle balene di modificare il loro assetto in realtà diciamo questi sono credo che tecnicamente siano capodogli che appartengono alla razza delle balene ma insomma sono una delle tante possibilità delle balene quindi il Mediterraneo almeno in Sicilia diciamo è pieno di balene interessante carino voi fate regalate un sacco di informazioni di tecnologia ad altri studiosi di altre discipline intanto non ce la potrebbero pagare comunque perché diciamo la biologia è povera in Italia quindi non so se anche qua c'è un video forse non lo so se sulle balene siamo passati nell'universo le balene nell'universo ancora non ci sono ma insomma adesso vediamo come c'è questa cosa qua dove siamo nei nostri grandi laboratori sotterranei eccoci laboratori nazionali del Gran Sasso loro hanno un laboratorio che è molto simile ai laboratori nazionali del Gran Sasso è in corso di allestimento però c'è una piccola differenza diciamo questa la devo dire che i laboratori nazionali del Gran Sasso stanno a un'ora e un quarto di macchina da Roma i laboratori cinesi che stanno in una regione meravigliosa che è il Sichuan però stanno a tre ore di macchina dalla cittadina più vicina insomma che è Shishan credo si chiami Shishan che peraltro in Cina è un posto famoso perché vicino c'è una delle basi di lancio è quella da cui hanno lanciato la Chang'e che è andata sulla luna e quindi è un posto importante in Cina tuttavia tre ore e mezza di macchina tra le montagne del Sichuan insomma è un'impresa un pochino più challenging che andare da Roma alle proprie del Cansasso ci ho detto però penso che faremo in collaborazione più o meno le stesse cose anche cercando di capire il cercando di capire l'universo stando sotto una montagna ecco ma spieghiamo perché si sta sotto una montagna lo vogliono sapere tutti perché a noi ci piace stare scomodi no non è questa no si arriva con l'autostrada però dentro poi non è che ci stai proprio volentieri in fondo c'è sempre 1400 metri di roccia sopra c'è questa temperatura un po' umidina no non è questo il problema il problema è che per capire per capire la vita cioè la nascita la vita e la morte di una stella bisogna andare sotto terra è strano tu pensavi che bisognasse guardare la stella invece no come mai perché intanto la stella si deve accendere quindi ci sono delle reazioni nucleari che devono accadere benissimo però una stella non si accende in tre giorni magari ci vuole un milione di anni per accendere la stella perché quelle reazioni nucleari sono molto rare sono molto lente sono come dire devi trovare la circostanza che quelle due cose si mettono insieme e allora queste cose noi le possiamo riprodurre ferma quel filmato perché siamo andati in un altro posto questo non è il CERN questo è Virgo ma questo viene dopo fermate questo filmato allora noi sappiamo fare sappiamo riprodurre queste reazioni però queste reazioni sono lentissime quindi se tu vuoi studiare una reazione lenta vuol dire che avviene anche nei nostri laboratori ogni ogni 10 giorni ma in quei 10 giorni fuori dalle nostre laboratori sulla superficie della terra passano tanti di quei raggi cosmici che non capiremmo niente invece lì abbiamo soppresso i raggi cosmici quindi possiamo permetterci diciamo di fare delle misure che sono molto rare questo è un motivo nascita di una stella abbiamo soppresso i raggi cosmici abbiamo soppresso i raggi cosmici e abbiamo fatto la stella no abbiamo studiato le reazioni che possono dar luogo una stella poi il modo migliore per studiare il funzionamento di una stella è misurarne i neutrini che emettono le reazioni di fusione che stanno nel cuore della stella anche quelli i neutrini come sai abbiamo capito sono particelle che prima di interagire insomma proprio li devi convincere con la cioccolatina con lo zucchero poi lo vogliono dicono no sono bambini capricciosi e quindi cambiano beh cambiano anche sì questa è un'altra disgrazia insomma una fortuna dipende per chi ha preso il piano Nobel e quindi diciamo un esperimento va sotto il gran sasso perché anche quelli ne interagiscono uno due tre al giorno anche lì i raggi cosmici ci stroncherebbero bene quindi però questo è il funzionamento normale di una stella se un giorno vi dicessimo attraverso l'esperimento Borexino che il flusso di neutrini è cambiato voi vi dovreste molto preoccupare anche io però diciamo però almeno io so perché voi vi dovete solo preoccupare non vi dico perché terzo molto spesso le stelle finiscono col botto no cioè la stella si è mangiata tutto il combustibile nucleare che ha quindi la gravità vince comincia diciamo a stringerla per un po' si riaccende perché insomma ci dà una risvegliata poi a un certo punto però non ce la fa più quindi collassa e nel collasso c'ha un rimbalzo un'esplosione e getta fuori di tutto compresi questi famosi neutrini però il bello è che tutto il resto i neutrini sono specifici di una fase dell'esplosione che è molto chiara e tu puoi descrivere ma non sai quando avviene quanto dura quindi quanto dura la fase della stella in cui diventa una supernova e se non vedi i neutrini non lo saprai mai e il motivo è che comunque con la luce non lo capiresti ma la luce la vedi dopo quando qualcuno ti dice è esplosa una supernova vai a vedere la supernova invece i neutrini arrivano diciamo e quindi tu sei contento hai visto quanto è lungo il flusso di neutrini e quindi il tuo modello di come funziona una supernova ti ho convinto che bisogna andare sotto terra per guardare le stelle se vuoi invece essere romantico e portarci la fidanzata o il fidanzato va bene non Torino credo però insomma le Alpi sono vicine vai in un rifugio alpino e credo che avrai un'altra visione delle stelle che è molto romantica ma non credo che ci impari niente dal punto di vista della fisica si possono fare entrambe le cose insomma ma non è lo stesso posto però ma dunque c'è stato lo spoiler prima con quella diapositiva terremoti parliamo di terremoti vabbè magari Fang e digli cosa fa XS perché come sai il terremoti sì il satellite quello satellite sì quindi quando c'è i terremoti si capisce che i raggi cosmici anche i come si dice il campo era come niente cambia quindi con il satellite da su lo puoi vedere prima e dopo anche se sei veramente fortuna durante il terremoto quindi lo vedi cosa succede in questo campo elettromagnetico e così possiamo vedere se in futuro possiamo prevedere il terremoto per adesso si parla solo di studio sì beh guarda è già molto che è stato deciso ma grazie alla Cina perché questa è un'iniziativa cinese e noi abbiamo costruito dei pezzi di quel satellite ma diciamo essendo italiani noi dovremmo essere molto molto diciamo orgogliosi di aver fatto questa cosa perché in fondo sia la Cina che l'Italia sono paesi dove i terremoti fanno pagare un prezzo molto caro diciamo allo sviluppo quindi è il nostro massimo interesse sviluppare la scienza per arrivare a capire meglio i terremoti e come per tante altre cose è importante quando tu hai un problema complesso lo devi studiare in maniera globale non puoi studiare una singola cosa quello dice vabbè il terremoto c'è il cane che abbaglia c'è il cane che abbaglia sì probabilmente è vero il cane sente delle emissioni diciamo delle cose a bassa frequenza che hanno a che fare col terremoto però il cane che abbaglia da solo non funziona poi magari c'è un'emissione di un gas radioattivo che è il radon e quello magari si può dare un'altra informazione sul terremoto però ripeto bisogna veramente avere poi devi avere una rete diciamo che ti permetta di capire se ci sono correlazioni prima correlazioni dopo per esempio se tu controlli la pressione se tu hai un posto dove c'è sottoterra dell'acqua c'è dell'acqua a pressione e tu controlli la pressione di quell'acqua probabilmente anzi questo è un fatto l'abbiamo anche misurato al Gran Sasso per i terremoti che ci sono stati da matrice e dintorni la pressione di quell'acqua cambia prima perché se tu hai una faglia che si sta muovendo e quella influenza la distribuzione dell'acqua lì sotto un satellite che guarda e cerca di capire se la radiazione elettromagnetica in qualche modo cambia perché questa cosa fa cambiare il campo tutto questo un giorno dovremo imparare a metterlo insieme noi non crediamo che domani sapremo molto meglio le cose ma secondo me fra 30 anni le sapremo molto ma molto meglio ma se non facciamo se non buttiamo se non come direbbe qualcuno sprechiamo i soldi in queste imprese non lo sapremo mai che diciamo non è una bella prospettiva per chi si pensa di essere la specie più evoluta della galassia ma io intanto chiedo al pubblico se ci sono delle domande di farsi avanti e poi visto che siamo nello spazio sbaglio o c'è qualche altra collaborazione tra Italia e Cina lo spazio è loro è loro noi ci mettiamo a bordo ma lo spazio è loro a spazio ce l'abbiamo un altro progetto di mettere un elevatore sulla stazione spaziale cinese così possiamo studiare i raggi cosmici anche la ricerca di materia scuro questo si chiama HERD H-E-R-D e poi ce l'abbiamo anche gli altri progetti sotto studio ancora non è non è non è vero è ancora un progetto sì ma lontano diciamo solo idea quindi è lontano e qua noi che cosa ci mettiamo Ferroni noi ci mettiamo un po' di nostra tecnologia e il rivelatore fino adesso abbiamo messo su un satellite che sta volando ormai da tre o quattro anni sì quello Damp quello è il rivelatore silicio lì abbiamo costruito il rivelatore fatto di silicio che è preso dai rivelatori che utilizziamo all'ALLHC è un rivelatore più compatto che fa che è a bordo di questo di questo satellite cinese che quindi misura la direzione delle particelle che vengono e per HERD per la stazione spaziale stiamo pensando a un concetto che abbiamo sviluppato un po' insieme in cui possiamo mettere insieme diciamo le cose che abbiamo imparato separatamente di un di un normalmente un tracciatore ha una direzione no o un calorimetro qualunque cosa voi mettete ha una direzione perché viene eletto da qualche strumento elettronico da una parte quindi se le cose arrivano per così tu le puoi leggere ma se le cose passano per così le vedi male allora abbiamo sviluppato un concetto di un cubo in cui le particelle possono arrivare in qualunque direzione e noi lo sappiamo leggere in tutta la sua tridimensionalità è un progetto molto interessante che si sta l'RND come si dice ricerca e sviluppo si sta facendo in Cina e da noi noi ci abbiamo messo credo un bel milione di euro sullo sviluppo di questo concetto per portarlo a maturazione speriamo che possa andare sulla stazione spaziale cinese entro dieci anni da ora più o meno ogni tanto dico dieci venti trent'anni non vi preoccupate io poi sarò in pensione però come no nel futuro guarda quella da lì c'è un giovane una giovine davanti a me che potrebbe anche pensare agli esperimenti che saranno fra 40 anni quindi non è un problema c'è sempre chi prende è come la staffetta noi abbiamo fatto questi trent'anni diamo il testimone qualcun altro se ne farà altri trenta che vi devo dire però l'importante è questo concetto di trasmissione della conoscenza e questo non avere il senso della proprietà diciamo fondamentalmente e poi come dico io sempre tutte queste imprese sono fatte nello spirito di Cristoforo Colombo cioè se Cristoforo Colombo avesse pensato più a lungo diciamo con una mappa che non sapeva come erano distribuite la terra però due cose lo sapeva uno che la terra era una sfera pensa lo sapevano già i greci pensa Cristoforo Colombo era una sfera la seconda è che sapeva benissimo quanto ci aveva messo Alessandro Magno ad andare da Roma cioè dalla Macedonia fino in India e lui in India voleva andare quindi se avesse fatto due conti in croce come si dice per l'India lui non partiva perché sarebbe sicuramente morto in mare lo spirito dell'esploratore è quello che dice io vado io vado e se no non funziona ma tornando a quegli anni 50 della nascita dell'INFN e del suo attuale presidente si dice che quel particolare momento di sviluppo fosse dovuto anche al fatto che chi aveva ruoli dirigenziali nelle istituzioni scientifiche aveva probabilmente un po' più di libertà rispetto ad adesso a scegliersi i collaboratori e a decidere chi poteva lavorare con loro allora io chiedo a tutte e due nel ruolo che avete al di là del contenuto scientifico quanto è complicato fare le cose domandona quanto è complicato fare le cose in Cina molto complicato niente facile perché adesso diciamo per fare una cosa che nessuno ha mai fatto prima vuol dire una cosa complicata è difficile quindi ci vuole tempo e anche ci vuole idea sì ma quanto è complicato avere a che fare con quelli che poi devono mettere i soldi che devono finanziare quanto è complicato convincere e seguire poi tutta la prassi la burocrazia che immagino ci sia in Cina come in Italia credo che in Cina è abbastanza difficile non è così facile tutti i progetti che abbiamo parlato ci vuole circa dieci anni di preparazione ci vuole dieci anni di parlare con il governo per convincerci a mettere i soldi in Italia Ferroni allora c'è una differenza fondamentale va bene anche con la Cina devo dire perché anche la Cina ha avuto un momento di sviluppo negli anni precedenti in cui le cose erano probabilmente più facili perché quando decidi che devi rincorrere qualche cosa allora puoi anche permetterti di fare le cose diciamo in una maniera un po' più garibaldina si dice in Italia negli anni 50 in Italia era del tutto evidente qual era il problema cioè avevamo perso la guerra va bene c'era un paese a pezzi quindi qualunque idea che fosse diciamo un'idea che proiettava il paese nel futuro e che aumentava le competenze era un'idea che veniva sostanzialmente accolta abbastanza bene e non per caso alla fine degli anni 50 inizia quello che è il boom economico italiano no? in cui mettendo insieme tutte quelle competenze l'Italia diventa un paese diciamo che comincia a correre in cui l'economia migliora in cui le cose vanno bene penso si facevano anche figli a quei tempi voglio dire certamente è un'altra visione del mondo ora non sto predicando il fatto che ci vuole una guerra diciamo disastrosa per rimettere in moto l'economia però di fatto quello è stato un meccanismo che per l'Italia diciamo ha cambiato veramente il paradigma perché se pensate diciamo a cos'era l'Italia prima e cos'era l'Italia agli anni 60 dopodiché esiste un meccanismo che dice che comunque tu debba chiedere dei soldi c'è un certo numero di burocrati che deve giudicare questa richiesta e diciamo maggiore il numero dei burocrati e maggiore l'incompetenza di chi ti deve esaminare ora questa è un'altra legge di natura particolarmente interessante diciamo che purtroppo funziona in maniera implacabile in maniera implacabile che dire non mi posso lamentare cioè l'Istituto Nazionale di questo lo voglio dire molto chiaramente come disclaimer come dire a salvezza di qualsiasi governo che c'è stato in Italia dagli anni 50 fino ad oggi diciamo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stato trattato comunque meglio di qualunque altro ente di ricerca in Italia cioè lo voglio dire in maniera esplicita perché questo è ora ovviamente ci deve essere deve essere il fatto che siamo simpatici anche perché non credo che tutti i presidenti degli NFN fossero particolarmente simpatici persone normali noi che andavano al governo facevano il balletto diciamo e poi arrivavano i soldi io credo che l'NFN abbia usato ogni centesimo che ha avuto dal 1951 fino al 2019 in una maniera come si dice in inglese accountable noi per ogni centesimo ti possiamo dire cosa abbiamo fatto quale tipo di rapporti abbiamo col mondo il fatto che comunque diciamo se l'NFN offre la sua collaborazione alla Cina o agli Stati Uniti o al Giappone o alla Svezia o a chiunque altro tutti dicono venite venite va bene cioè venite venite e portate la vostra conoscenza a qualche volta anche al di là dei soldi che portiamo va bene qualche volta è più importante la nostra conoscenza la nostra tecnologia dei soldi che portiamo associati quindi noi credo che abbiamo fatto difeso diciamo la nostra capacità di fare ricerca in una maniera meravigliosa se vuoi però il fatto che comunque diciamo in questo paese da da dieci anni a questa parte il budget come si dice rimane costante che è un'ipocrisia perché sfortunatamente la bottiglia del latte costa più che dieci anni fa e la ricerca non va al latte la ricerca va con oggetti il cui prezzo aumenta anche di più rispetto diciamo alle materie prime pensate a Tungesteno al Silicio altre cose questa cosa certo non ci avvantaggia noi diciamo facciamo dei problemi virtù e sicuramente ci arrangiamo essendo più industriosi essendo più efficienti però insomma a un certo punto la storia dovrà finire se volete che questo paese non diventi scientificamente sottosviluppato e deficitario dal punto di vista dell'innovazione o qui si mettono più soldi sul tavolo oppure qui a un certo punto si chiude si chiude botteghe uno dopo l'altro per carità non ho detto saremo gli ultimi moicani ma questo non mi consola neanche un po' chiedo sempre se ci sono domande eccone una lassù ecco continua a mangiarmi questo tappo buonasera la mia è una curiosità riguardo ai neutrini di cui parlava prima nel laboratorio del Gran Sasso questi neutrini arrivano dallo spazio parlava di una supernova ad esempio ma interagiscono e voi li studiate insomma come si fa a sapere che sono i neutrini che arrivano dalla supernova o non siano quelli che arrivano dal sole o dal Big Bang è la stessa cosa? no no allora quelli del Big Bang mi piacerebbe vederli ma non abbiamo ancora trovato un modo di farlo sarebbe bellissimo vedere i neutrini del Big Bang non sarebbero esattamente del Big Bang ma sarebbero di un secondo dopo il Big Bang non lo sappiamo fare cioè c'è un'idea di principio su come si può fare tra l'altro abbiamo appena dato l'autorizzazione a un esperimento quello dei nostri amici di Princeton del nostro amico di L3 Cristalli si chiama Tolemy l'esperimento di provare a cominciare a croccare qualcosa al Gran Sasso per vedere se ci arriviamo allora diciamo i neutrini del sole hanno diciamo hanno uno spettro definito in energia possono arrivare sostanzialmente da qualche centinaio di chilo elettronvolt fino a qualche milione di elettronvolt ne arrivano due o tre al giorno diciamo quindi puoi fare come si dice la distribuazione di Poisson della probabilità che arrivano quelli della supernova arrivano tutti insieme bene cioè arrivano in un secondo in due secondi in cinque secondi nel tempo di collasso vero della supernova arriva un fiotto di neutrini quindi quelli diciamo dal sole non possono essere poi hanno anche loro una distribuzione di energia che è importante ma è meno importante rispetto a come si impacchettano diciamo temporalmente infatti l'informazione più importante che si può imparare dai neutrini di una supernova è proprio il tempo del collasso perché quello ti permette di stabilire diciamo qual è stato il modo in cui questo oggetto è imploso su se stesso c'è una domanda lì vicino proprio salve perché le collaborazioni internazionali che sembra così facile nella fisica sembra invece così difficile in tutti gli altri campi praticamente chi risponde adesso va anche lui due visioni diverse del mondo la mia impressione è questa che in fisica ci sono due fatti fondamentali uno ha più che fare con la matematica con la fisica ma non importa due più due fa sempre quattro e la seconda cosa è che io non ho mai visto quasi nessuno che ci guadagna facendo fisica cioè non c'è dietro un business c'è dietro una grande passione c'è una volontà di scoprire un meccanismo fondamentale dell'universo e c'è un linguaggio in comune no? proprio linguaggio in comune si chiama matematica c'è poco da fare non scappi ora so benissimo che questa mia prima affermazione che due più due fa sempre quattro di questi tempi potrebbe essere contestata con questo lo dice lei però a parte questo diciamo non è particolarmente grave tu che pensi? no non sul due più due che pensi sul no no niente di più sintetico ma chiaro ma ecco io questo teorema l'ho spiegato anche una volta mi hanno invitato in una cena di un'associazione che non mi ricordo neanche più il nome ma era una cosa prestigiosa da ricchi in un hotel a Ginevra no? appunto questi insistevano diciamo perché in fisica non litigate mai andate tutti d'accordo io ho detto guardate qui lo capite benissimo perché questi non si guadagnano quindi non c'è nessun problema cioè se possiamo se io e lui ci come dire non facciamo più lo stesso esperimento insieme rimaniamo poveri ugualmente quindi tanto vale mettersi insieme ecco come diceva prima per fare i fisici bisogna essere un po' matti ma questo fa parte forse sì diciamo come noi sì bisogna avere delle visioni adesso puoi interpretare questa cosa in molti modi ho citato infatti ho detto bisogna avere delle visioni ma ecco la domanda è a tutti e due è un buon momento da quel punto di vista per la fisica adesso sì cioè è esaltante fare ricercatore in fisica sì ecco lo è sì perché adesso diciamo abbiamo finito la standard model per la fisica particolare e abbiamo un problema non sappiamo dove andare e questo è una difficoltà però anche l'opportunità quindi vuol dire se c'era una scoperta una scoperta grosso Ferroni d'accordo assolutamente sì abbiamo abbiamo spiegato in tutti i dettagli il 5% dell'universo pensate ci manca l'altro 95 lo stipendio è assicurato per lungo tempo non è elevato tuttavia diciamo continueranno a darcelo va bene allora con questa battuta ci salutiamo salutiamo i nostri ospiti Fernando Ferroni e Yifang Wang le ringraziamo per essere stati qui l'appuntamento per Giovediscienza è giovedì stavolta sempre qui con Christophe Galfar parleremo di relatività grazie e arrivederci grazie 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 grazie